ok c'è chi c'è da chi c'è da 1 la presa due mani che mi prende con le mani che mi spiosissimo potrebbe farlo per proietarmi oppure stacca un braccio e mi attacca come mettere le mani che mi faccio anche questi tecnici, lo sono, lo mette le mani che mi è già finito però spesso quando si segna le mani addosso da uno più grande sono un po' più basso mettiamo un po' più grande braccio è più movimento faccia che dica ad arrivare, è più forte, non so come, e ci fanno quella della parte, diciamo che provarle mi rende un po' più sicure, ma a parte questo come dicevo prima le proviamo applicate sui punti digitali e il cifre sui 5 elementi, è importante, abbiamo le tecniche molto molto più efficace, altrimenti siamo qua, ok, allora rifacciamoci a chi finisce da, quindi subito, sempre, allora, Namikeshi e Kishadan, lo possiamo usare sia per scacciare, sia per andare dalla nostra amica Kinsasei, giusto? Quindi Kinsasei, questo colpisce colpisce sulle braccia, accorce la distanza, lui si espone, colpisce, uno, due, ok? dopo che gli avete fatto questo qui, già questo, allora, rifacciamo, subito, uno, ah, facciamo qui, questo, questo, vado a rubire girando su, espone, ormoni 5, quindi vado a rubire girando qui sopra, vado ad afferrare, qui, intestino presso 10, ok, mi aiuta molto, lui no, ma a me si, ok, uno, e poi, eventualmente, 2, e qui, uno, due, testino presso 10, colpisco qua, poi colpisco dietro, l'applicazione del catà, ok, l'altro modo di, simile, quasi uguale, allora, vado subito sempre all'altra, ok, questo, questo, questo è l'altro, dell'altro senso, perché sono uscito qui, eh, qui, vado come prima, anche nel mio, elemento A, approssimare sull'intestino del 18, molto pratico, o sul stomaco 5, ok? Allora, afferra le mani, questa è semplice, pratica, sempre meglio, inizia a sé, il passo, il famoso passo, inizio, faccio l'altro, e lo passo tutti inizio, ok? Lo consideriamo come, sempre, non ne vedeci, o sempre, inizia a sé, queste, vado qua, colpire, o, ehm, bisogna andare sugli oretti, bisogna rimanere la scelta fatto questo, entro col pisco sempre nocca del migliore, l'intaffa, stomaco dopo questo è finito adesso si è finita anche prima uno, uno, due su, entro andate su venite ancora qui in questo punto non c'è di capire qui ma sono tutti qua ancora qui è pronto